Un trail runner è un progetto che come trail running coaching abbiamo ideato e pensato per poter portare nella mente del runner la consapevolezza e la costruzione di un modello che porterà a diventare un trail runner. Diventare non solo dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista della conoscenza della materia, dal punto di vista soprattutto della conoscenza di se stesso nell'ambiente del trail running. La consapevolezza è qualcosa di molto importante, infatti io e Fulvi abbiamo creato trail running coaching perché vogliamo sviluppare una cultura sportiva nel mondo del trail running. Siamo convinti che la sola esperienza, se non è affiancata da metodi scientifici, non possa bastare. Metodo, programmazione e tecnologia devono essere sempre affiancate al piacere di correre per sentieri. Quella è la cosa più importante. Tu trail runner comincerai da qui. Comincerai da qui perché vorremmo capire chi sei, chi sei come atleta e soprattutto capire quali sono le tue caratteristiche di appoggio, di fisicità, di background sportivo, di passato sportivo che ti ha portato fino a qui. Cercheremo di capire quali sono i tuoi punti forti che vorremmo mantenere assolutamente e cercheremo di capire quali sono i tuoi punti deboli su cui andare a lavorare. Cercheremo quindi di lavorare sui cinque aspetti fondamentali che caratterizzano il trail running che sono quindi la preparazione atletica, la programmazione ottimale degli allenamenti, l'accurata scelta dei materiali, la gestione nutrizionale da utilizzare durante gli allenamenti e la gara e infine gli aspetti mentali che caratterizzeranno questo intero percorso. Cosa è questo percorso? È un'avventura di alcuni mesi, insieme a noi di Trail Running Coaching, che andremo a darti realmente delle linee guida su cui allenarti. Parlo di linee guida perché non saranno solo mere e sterili tabelle, saranno veramente degli insegnamenti, questo quindi sarà l'obiettivo che ci porterà poi alla fase conclusiva in fondo, che si svilupperà dopo qualche mese, dove vedremo i tuoi progressi, rifaremo una serie di test che abbiamo ripreso dall'ingresso e li riproporremo per capire quanto tu sia cresciuto in questo periodo insieme a noi. Grazie a tutti.